prima raccontava di come è nata l'idea del film che ha avuto diciamo varie fasi nel corso degli anni che quando portato alla sua realizzazione ci può fare un piacentino sì no è la prima volta la storia mi è venuta in mente quando dieci anni fa ad istanbul una ero andato per due giorni così la sera sono andato a cena a casa di serra il mas la mia attrice che ha fatto tanti film con me che aveva questa casa bellissima tutto si vedeva il bosforo le cose un'atmosfera molto bella eravamo 12 persone a cena a un certo punto mi sono messo a chiacchierare con questa signora molto affascinante ragazza signora no sbagliato dire 35 anni ci siamo messi a chiacchierare e poi ci siamo messi da parte proprio in un angolo a parlare di tutto di più poi a un certo punto lei ha detto dio 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 troppo tardi me ne vado dico dove stai andando dice no perché domani mattina mi devo alzare molto presto perché c'è un cadavere da perché sono un medico legale ok e ho pensato quando le siano andato ho pensato ma se io fossi leva al lavoro mi trova davanti cosa penserebbe così perché si eravamo molto legati questo è stata una cosa poi invece da lì ho pensato il seguito un po' succederebbe questo farebbe questo e poi mi sono fermato la ripresa di questa idea mi è venuto in mente dopo quando sono stato a napoli sei anni fa cinque anni fa a fare la traviata mentre facevo la traviata ho conosciuto questa signora flora che poi ci siamo legati molto una delle mie amiche importanti attraverso flora ho conosciuto pasquale michele questo michele che un grande artista per me che fa delle cose molto belle mi ha portato in giro e tra la quartiere sanità loro le cose che ho incontrato le case che sono entrato ho cominciato a dire ma io devo raccontare una napoli quello che vedo quello che sto vivendo in questo momento lo devo condividere con delle persone perché loro non sanno di questo napoli sono sicuro che non lo sanno ma addirittura ci sono dei miei amici napoletani che dicono a ma quel posto lì dove l'hai trovato ma quello dove era questo come questa mi fa una delle più grande goduria della mia diciamo di questa situazione del cinema quando una persona di quel posto lì che non conosce quel quel tratto della città o quella situazione della città ma giovanna mezzogiorno è nata l'idea di giovanna nata proprio al soggetto noi abbiamo cominciato a scrivere il soggetto insieme vaglia santella e gianni romoli io ragazzi io vedo per questo ruolo giovanna mezzogiorno l'ho chiamato ho detto giovanna noi adesso stiamo scrivendo iniziando a scrivere questa storia vorrete come protagonista ti mando poi quando abbiamo scritto il primo abbiamo scritto tipo 15 20 pagine l'abbiamo andata a lei e poi dopodiché sviluppato tutto attraverso lei lui è arrivato dopo ma lui è stato il primo attore che ho visto per questa parte nel senso che lui è stato l'attore che è arrivato si è seduto davanti a me avevo visto due cose sue quindi mi piaceva molto ma siccome lui si cambia in continuazione si trasforma c'era questa mania di trasformarsi la barba i capelli lunghi gli occhi così io ti voglio usare come sei tu almeno il pubblico deve conoscere come sei fatto e così l'abbiamo e l'ho scelto anche se la scelta è arrivato un po dopo perché ho detto il primo attore che vedo per una parte non posso dire subito questo e ho visto vari attori poi alla fine l'ho scelto dopo il successo di pubblico in sala il film uscirà appunto anche in dvd in blu ray e negli altri vari formati qual è il rapporto di ferzan che appunto si è detto si è dichiarato essere un collezionista di dvd qual è il suo rapporto invece con le nuove tecnologie quindi questi film in digitali e i dvd che stanno via via scomparendo ma sai cos'è che io lì ho un po di difficoltà nel senso che ci sono dei miei amici che dicono ah sai io vado a vedere il film nel computer c'è questa canale questa cosa così io ancora ci sto arrivando ci sto arrivando a poter vedere un film su itunes ci sto arrivando a vedere io ho il massimo che posso vedere su sky sulle cose così di che sono abbonato a sky sono abbonato a netflix sono abbonato su vari vari canale però il dvd per me rimane sempre quella cosa più immediato che c'ho sotto mano il blu ray una cosa che tu vedi con la qualità di blu ray sullo schermo bello grande diventa per te un effetto forte e poi hai anche una facilità che interrompi torni puoi farlo questo insomma per me è veramente il massimo avere il dvd di un film proprio da da collezionista ha curato personalmente i contenuti speciali del blu ray di dvd? sì questo abbiamo fatto abbiamo cercato di fare il più possibile io ne farei altri mille cose mettere dentro addirittura mi piacerebbe molto per esempio il prossimo film mi piacerebbe molto da quando nasce l'idea come si sviluppa l'idea quando vai sul luogo come l'atmosfera poi quando viene ambientato questo bisognerebbe fare forse quindi proprio un diario di viaggio sì sarebbe carino sarebbe carino perfetto grazie grazie a te grazie a te grazie a te